Sì, sì, sono felice Sì, è felice molto perché posso dire che è casa mia, perché ci abito, perché è la squadra che mi ha fatto iniziare ad allenare e con cui abbiamo avuto grandi soddisfazioni, penso che fosse il momento giusto per tornare e quindi è come un ritorno a casa, quindi per questo insomma sono molto contenti. Ecco, il Presidente Martino a Telecamere Spenda ci ha riferito qualche aneddoto in passato, non lo possiamo dire qui davanti alle telecamere, nulla di preoccupante però ha ribadito davvero la sua felicità di riaverla qui a San Termete dopo anche un'esperienza coltivata da lei nell'interno sanmarinese. Che tipo di campionato si attende lei? Ma è un po' di anni che manco dalla promozione perché prima in realtà dopo San Termete, Marignano, Cattolica, insomma siamo stati sempre in questo campionato e qui che ritroviamo dopo un po' di anni. Sinceramente non lo so perché poi dipende dal tipo di squadra che verrà allestita, sicuramente siamo qui per avere un grande entusiasmo, per divertirci molto, chiaramente il divertimento passa dalle fatiche degli allenamenti, però per creare un gruppo di persone che devono stare bene insieme, che cercheranno di ottenere il risultato migliore possibile in base alla qualità che poi riusciremo a dimostrare. Però subito la società ha voluto accontentarla, andando subito sul mercato il primo acquisto che è stato realizzato è quello di Bomber Pasolini e io aggiungo niente male per una squadra che comunque ambisce a qualcosa in più rispetto al passato. Ecco, fermiamoci qui, non facciamo paragoni con altri campionati perché è sempre scomodo farli. Sì, passavo per difensivista per aver avuto le migliori difese, allora abbiamo detto intanto se questo trova il gol poi dopo il resto è organizzabile. È chiaro che Paso è una persona, prima ancora, che è un grande Bomber che per la categoria e umanamente lo conoscevamo bene, quindi è una persona da dieci elode e siamo molto contenti di averli con noi. Secondo me l'attaccante, il portiere e il ruolo dal punto di vista tattico meno allenabili forse dal punto di vista di uno staff tecnico, di un allenatore, quindi siamo molto contenti di averlo tra noi. E' chiaro che la squadra è fatta da 20-25 persone che lottano tutti gli allenamenti e i giocatori sono entusiasti di farli e soprattutto che cercano di rubare il posto al compagno. Se riusciremo a creare questa chimica, oltre a Pasolini magari avremo anche una squadra che porterà a ambire a degli ottimi risultati, altrimenti non avremo raggiunto lo scopo. Come nasce questa trattativa di Ritolo? Come è nato il tutto? Ma è nato, andiamo allo stesso bar, siamo nello stesso paese, ci vediamo spesso, diciamo che ci sono state le condizioni in questo momento, magari anche in passato, per questo ritorno. Sono tutto qua, insomma, adesso io comincio ad essere molto vecchio, quindi dal ragazzo allenatore che ero quando mi hanno preso, adesso sono un uomo attempato. Spero di non essere una minestra riscaldata, come si dice, speriamo di vivere delle soddisfazioni, ma questo non lo può garantire nessuno. Quello che possiamo garantire è che ci sarà un grande rispetto di ruoli, una squadra che cercherà di avere un livello culturale per la categoria molto alto e soprattutto di avere, ripeto, un grande entusiasmo e che cerchi di stare bene insieme, perché Sant'Ermete è famoso come ambiente perché comunque le persone devono essere felici insieme, ecco. Quindi dobbiamo cercare di ricreare questo. È bello questa cosa perché, aggiungo io, un clima assolutamente familiare, conoscendo anche chi costruisce e rappresenta questa società. Una curiosità, come ha ritrovato anche un dirigente storico come Molari questa sera? Molari, a parte che non lo ritrovo stasera perché lo vedo praticamente, ce l'ho tra le scatole praticamente tutti i giorni, però se vogliamo parlare di Molari basta dire che è quello che ha portato il Real Madrid e il torno a Pato Sant'Ermete. Ora, il resto, insomma, in questo momento sto dicendo queste cose perché, insomma, devo accattivarlo. No, in realtà, insomma, Molari ha fatto la storia qui, quindi l'ho ritrovato come è sempre stato. Però dobbiamo portare adesso, a parte gli scherzi, un livello di organizzazione alla società e un livello di organizzazione alla squadra che faccia fare uno scalino in più perché, comunque, se una squadra è tra la prima categoria, la promozione, e una squadra vuole consolidarsi nelle parti alti della promozione, deve comunque fare qualche passo in avanti. Grazie